Noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola vicino alla città della Pieve cioè come alternativa all'inquinamento urbano inteso non soltanto come scorie eccetera Sono sette giorni che ti stai a fare tutti i semafori, tutti i pizzi di ruolo Basta no, non ti vado o ti incontro ma a farla finita no Vabbè comunque ciao, buona giornata